Ciao e benvenuti in questo canale di ASMR Therapy, lei è mia sorella, gemella, e oggi vi faremo rilassare insieme. Grazie a tutti. ecco Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ok, io le so, cambio il trigger Ok, io cambio il trigger Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Questo è tutto da me e dalla mia genella nei commenti lasciate la vostra preferenza quale dei tuoi triggers quindi quale delle tre sorelle ha fatto dei triggers che vi sono piaciuti di più Alla prossima Grazie. Grazie a tutti.